Ciao, sono Giacomo Baranzini, da oltre 20 anni mi occupo di immobiliare avarese. Oggi voglio parlarvi di quella che è la superficie commerciale e come si calcola. Spesso mi viene chiesto in sede di sopralluogo dai clienti qual è la superficie netta, la superficie calpestabile dell'immobile. È una domanda lecita che si può tranquillamente fare, andrebbe poi calcolata scorporando tutte le superfici di tutte le murature e non calcolando con i vari coefficienti le superfici dei terrazzi, dei giardini, dei solai, delle cantine, eccetera. Questa superficie che è quella netta serve per avere un'idea di quanto è grande la casa dal punto di vista proprio dello spazio abitativo abitabile. Non è corretto poi pensare di comprare solo quella superficie ed è il motivo per cui tutti gli agenti immobiliari vanno a fare un calcolo di tutte le superfici che collaborano a sviluppare la superficie commerciale. Cosa vuol dire? Che se io ho un appartamento di 100 metri, comprese le murature, dovrò sommargli poi la superficie ragguagliata del terrazzo o di una cantina e a seconda che questa cantina sia raggiungibile direttamente o collegata direttamente o meno, avrà un coefficiente che andrà a riparametrare la superficie di questa cantina. Perché si fa questo calcolo? Perché si comprano anche i muri in verità, si comprano anche le cantine, si comprano anche i terrazzi e si comprano tutti gli accessori. Quindi è un po' sbagliato pensare di comprare solo un volume interno alle murature e quindi una superficie calpestabile perché si compra effettivamente tutto. Va calcolata nel modo corretto. Io utilizzo da anni quello che la Camera di Commercio consiglia nella sua edizione annuale, penso che si riesca a vedere ma poi eventualmente vi metto uno screenshot di quella che è l'edizione, questa è la rilevazione dei prezzi degli immobili, provincia di Varese, Camera di Commercio. Oltre a riportare tutti i valori, comune per comune, valore di massimo al metro quadrato degli immobili porta anche un metodo che è quello utilizzato poi in verità dal Catasto per il calcolo delle superfici commerciali. Questo lo dico perché se tutti gli agenti immobiliari utilizzassero lo stesso metodo, magari questo, avremmo perlomeno una variabile fissa che è quella della superficie commerciale. Poi c'è un'altra variabile che è quanti euro al metro quadrato vado, come dire, ad attribuire a questa superficie commerciale, ma questo poi sarà oggetto magari di un altro video. Spero di avervi chiarito l'idea su che cos'è la superficie commerciale e vi aspetto naturalmente al prossimo video o qui in studio da me. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.